è una poesia che non ho mai letto nina che di poesia io non ne ho letta mai manco una ma da quello che mi ricordo dalla scuola la poesia e nina una cosa bella che si abbraccia al cuore ecco qui queste sono le parole dolcissime che il giovane protagonista del libro di mattia grigolo la raggia rivolge alla sua fidanzata e lascerebbero pensare ad una storia d'amore qualsiasi come le storie d'amore che leggiamo quotidianamente all'interno però non è proprio così perché la raggia è la storia di un femminicidio la raggia è la storia di un giovane ragazzo che uccide la sua fidanzata e in qualche modo l'intera comunità all'interno della quale vive perché il ragazzo vive all'interno di un piccolo paese nel momento in cui si rende conto che la ragazza è scomparsa immediatamente intuisce che potrebbe essere stato il giovane questo accade perché il ragazzo appartiene ad una famiglia complicata viene da una famiglia complicata senza la madre e l'unico riferimento che ha è il padre un padre estremamente violento che ha sempre utilizzato come unico mezzo di comunicazione come un'unica forma di linguaggio la violenza l'espediente narrativo utilizzato da mattia grigolo per raccontare questa storia è veramente molto bello perché la storia viene ripresa da una terza persona che trova i diari i quaderni all'interno dei quali sono racchiuse le confessioni del protagonista sono racchiuse le confessioni del giovane tre quaderni che vengono ripresi e riportati a partire dal secondo quindi è come se la narrazione partisse in media stress la storia della raggia è una storia che vi lascerà senza fiato e posso garantirvi che non vorrete mai smettere di leggerla non era una lettura che io avevo in programma di fare nel 2022 volevo rinviarla al 2023 ma non appena ho aperto il testo dopo le prime pagine ho sentito la necessità di finirla e di portarla proprio a termine e posso dire che è stata una davvero una perla una lettura assolutamente che mi ha concesso di chiudere in qualche modo l'anno delle letture del 2022 in maniera a dir poco impeccabile la tecnica di narrazione di mattia grigolo utilizzata da mattia grigolo è veramente molto bella si vede che c'è un'eccellente scelta un'eccellente selezione delle parole ed è a metà tra la novella e la poesia in più l'autore riesce a far vedere le difficoltà del giovane protagonista nel riuscire a raccontarsi proprio perché più volte il ragazzo dice di non essere particolarmente acculturato e quindi di non essere capace di raccontarsi nemmeno all'interno di un diario ed infatti a livello visivo questo viene reso in maniera in modo molto impattante ad esempio tramite una serie di cassature che vengono proprio riportate all'interno del testo che sono poi le cassature che all'interno del diario ha fatto lo stesso protagonista quindi la raggia è a mio avviso al secondo il lettore medio davvero una perla e ringraziamo mattia grigolo per questo testo e ringraziamo pidgin invitando proprio questa casa editrice a pubblicare altri libri come questo perché davvero la nostra letteratura quella italiana la narrativa italiana credo abbia davvero bisogno di testi così ben fatti quindi grazie ancora e noi ci vediamo per con la prossima recensione grazie a tutti